Dove andiamo in vacanza quest'estate Hermes? A Lido di Milano. Mi sembra un po' messo male. Ma Paolo Rusconi, tu hai qualche altra idea dove possiamo andare? Certamente, al lago o in campagna. Andiamo. Ah, le vacanze, un po' di verde. Hermes, la campagna. Guarda che bello. Proviamo. E non siamo lontani da Milano. Anzi, guardate dove siamo. Siamo tornati in questo famoso pezzo di circonvallazione che è privato dell'uso e dell'utilizzo a tutti i cittadini, quindi non si posteggia, non passano le macchine, non passano i mezzi pubblici. In compenso, la natura ha fatto il suo percorso. Allora forse sarebbe il caso magari di aggiungere ancora un po' di verde se uno si fa una passeggiata, perché altrimenti, se non si fa così, questa vacanza a Milano si rischia che qui, in campagna, vi ricordo, siamo vicino al Palavido, invece di trovare cose fresche, pulite e profumate, si trova qualcos'altro. Io direi, Hermes, che questa campagna non va troppo bene, perché al posto degli asciugamani si trovano delle cose un po' schifosine. Poi anche a prendere il sole, insomma, c'è gente un po' incivile qui, guarda tutte queste bottiglie di vetrorote. Qua questo non si capisce se è un pernozzo o una discarica. Sì, poi c'è qualcuno che, insomma, no, no, questa vacanza in campagna a Milano mi sa che non va mica bene. Assolutamente no. Andiamo, ce ne va? Paolo, c'ho un altro posto io dove possiamo andare, perché non ci arrendiamo così. Esatto. Che ne dici? Andiamo vicino all'acqua? Sì, al fresco, al lago, perché no? Sì. Andiamo al lago. Andiamo, andiamo al laghetto di Migliar. La 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 la. Oh, a me le vacanze mi sono sempre piaciute, eh. Poi tutta questa scelta che c'è qui a Milano, Hermes. Campagna, piscine, fonti d'acqua. Pensa che questo qua c'è tutto l'anno. Sì. Va giù a Milano. Da Gennaro a Dicembre. Che te ne pare? Eh, è qui da anni che siamo anche affezionati ormai, perché è veramente tanti anni che è qui. È vero, ormai ci sono delle forme di vita che in altri paesi del mondo non ci sono. Però, se nel caso non ti piacesse perché c'è troppo caldo, ce ne ho un altro da farti vedere. Andiamo. Con Paolo Rusconi che ci segue alla camera, in vacanza anche lui con noi. Andiamo, andiamo, andiamo al secondo lag. La 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 la. I famosi Hermes Laghi Migliara. Oh sì. I più amati nella circonvallazione Lotto. Eh, no, no, qui non va bene, no, no. Questa non è accettabile. Siamo in una città green, non ci può essere gente che mi posteggia vicino al laghetto in questa maniera qui. E poi soprattutto gli incivili, Hermes, guarda qua, che defecano vicino a delle fonti d'acqua così preziose. Assolutamente. Che il comune di Milano tutela tutto l'anno. Una vergogna. Beh, ragazzi, mi sa tanto che per quest'anno rompiamo le righe, vi salutiamo tutti per le vacanze che arriveranno insieme a Paolo Rusconi, è forse meglio che andate in vacanza da qualche altra parte, perché non è proprio il posto migliore. Te che dici? Assolutamente no. Un saluto a tutti da City Report. Ci rivediamo con la prossima stagione. Buole vacanze a tutti. City Report.